In un contesto di voci e speculazioni, Loredana Lecciso si apre in un'intervista che ci porta attraverso i sentieri più intimi e personali della sua vita. Da una storia d'amore con Albano Carrisi che ha catturato l'immaginazione di milioni, a un presente in cui si ritrova a navigare le acque della solitudine, Loredana condivide momenti di riflessione profonda che meritano di essere esplorati. Prima di addentrarci in questa narrazione emotiva, ricordo a te, caro spettatore, di iscriverti al canale e attivare la campanella delle notifiche per rimanere aggiornato sulle ultime interviste e scoperte del cuore dello spettacolo. Loredana Lecciso, icona e showgirl amata da molti, si è recentemente aperta riguardo il suo nuovo stato di single. Un cambiamento che porta con sé non solo la libertà ma anche un senso di malinconia. Ho messo il cuore nel freezer, dice Loredana, un'affermazione potente che riflette un periodo di pausa emotiva, forse necessaria, dopo gli alti e bassi vissuti nella sua vita sentimentale. Mentre il gossip si infittisce riguardo un possibile riavvicinamento tra Albano Carrisi e Romina Power, Loredana mantiene una posizione di dignitosa distanza. Io lo escluderei, risponde quando interrogata sul possibile matrimonio bis tra i due, segnalando un rispetto per i confini della sua vita privata che non intende oltrepassare, pur non nascondendo una velata tristezza per le dinamiche familiari in continua evoluzione. In questo periodo di introspezione, Loredana trova conforto nell'affetto immutato per Albano, ci vogliamo veramente bene e nell'amicizia, in particolare quella con Francesca Pascale, che descrive come una fonte di felicità e sostegno. Queste relazioni diventano così le colonne portanti su cui costruire un nuovo capitolo della sua vita, un rifugio emotivo in cui trovare pace e serenità. Chiudendo l'intervista, Loredana esprime un desiderio di trovare nuovamente la felicità, seppur in un modo che per ora sembra volersi concentrare sullo sviluppo personale e sulle amicizie piuttosto che in una nuova avventura amorosa. Il mio cuore l'ho messo nel freezer, è a meno 30, una metafora che lascia intravedere una pausa riflessiva nella sua vita sentimentale, ma non un addio definitivo all'amore. Cosa ne pensi della situazione di Loredana Lecciso? La sua scelta di prendersi una pausa dal mondo degli affetti è una decisione saggia. Condividi i tuoi pensieri nei commenti e non dimenticare di iscriverti al canale per più insights e analisi sulle storie che scuotono il mondo dello spettacolo.